Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di un trasporto eccezionale si segnalano rallentamenti tra Aglio e Calenzano VI Fiorentino in direzione Roma. In A15 invece possibili rallentamenti a causa di lavori tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni, possibili disagio alla circolazione a causa di lavori anche in Fipi Litra, Ginestra Fiorentina e La Strassigna in entrambe le direzioni. Sulla statale Trebis Tiberina a causa di lavori momentaneamente chiusi gli svincoli di Val Savignone in direzione Ravenna e di San Sepolcro Sud in direzione Roma. Cantieri di Firenze fino al 5 novembre di vieto di transito in Viale Segni tra Via Natan Cossuto e Viale Gramsci. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!